e invece per il paraguay due giocatori in panchina attenzione il gol c'è in vantaggio il paraguay con Sergio Sarpano subito per Bianchi attenzione larga per Rastrello prova il tiro grande ballo e il gol c'è il gol di Bianchi e il pareggio dell'usa quando si parte dell'usa attenzione Burratti per l'angelo cefalo ancora Burratti attenzione il tiro e il gol rete rete di Andrea Burratti controllare il pallone scarica ancora per Coppola il tiro palo incredibile dell'ipoggi e il gol rete di Mirko dell'ipoggi installa il risultato attenzione riparte l'usa adesso Burratti scarica per Bianchi e avanza il tiro e il gol golasso di Andrea Bianchi scusate di Luca Bianchi dell'ipoggi perde il pallone Rastrello per Bianchi solo Bianchi il tiro e il gol e c'è il gol di Bianchi davanti al portiere il triple per il numero 7 dell'usa Sarpano che scarica per Fattorini ancora Fattorini allarga per Coppola attenzione Coppola ancora Fattorini il tiro e il gol golasso di Michele Fattorini attenzione sbaglia bene in uscita Coppola per Sarpano ancora Coppola il tiro e il gol c'è il pareggio del paraguay con Luca Coppola cambia per Sarpano ancora Sarpano per Monteforte attenzione Monteforte prova il tiro e il gol c'è il gol di Yuri Monteforte e il paraguay in vantaggio adesso passare in giro uno contro due in contrapiede Sarpano la mette in mezzo per Fattorini e il gol arriva il gol di Fattorini e c'è il gol del paraguay quando siamo giusto a tiro un calcio d'angolo Francesco Civola per Buratti lascia il pallone a Rastrello attenzione Rastrello prova il tiro e il gol golasso di Rastrello attenzione occasione Buratti e il gol c'è il gol di Andrea Buratti e il pareggio dell'Usa al 17esimo minuto del secondo tempo Buratti scarica per Bianchi il tiro bloccato il tiro di Lupi e il gol c'è il gol di Lupi e il vantaggio dell'Usa viene Buratti Rastrello Bianchi ancora Buratti attenzione Buratti va la mette in mezzo e il gol roda roda di Andrea Buratti e tripletta anche per lui Coppola attenzione il numero in mezzo per Sarbano il tiro e il gol attenzione c'è il gol di Sarbano e riapre il match 8 a 6 grande partita 8 a 6 scusate sul pallone Monteforta ancora allarga per Fattorini cerca il numero attenzione Fattorini in mezzo per Sarbano si gira il tiro e il gol roda roda di Sarbano proprio a 20 secondi dalla fine del match tripletta di Sarbano il paraguay pareggia il risultato di 8 a 8 incredibile match tra USA e Paraguay attenzione rischia qui è il gol c'è il gol di Sarbano ma che errore nella difesa del grazie a tutti Grazie a tutti